Artista Alessandra Pagliuca Alessandra Pagliuca nasce nel 1968 a Chivasso, in provincia di Torino, e si trasferisce nel 2017 a Lucca, città dove attualmente vive. Si diplome in un liceo artistico e decide di dedicarsi poi a tempo pieno alla pittura e alla sperimentazione artistica da autodidatta. Il suo debutto avviene nel 2012, quando espone la sua prima collezione personale di opere improntate sulla ricerca iperrealistica e sullo studio di Volti e delle espressioni umane. Ha esposto in diverse fiere e gallerie sia in Italia che all'estero e partecipato a diversi concorsi che l'hanno vista finalista in più occasioni. È stata persino vincitrice del premio indetto da Elio Pierucci nel 2014. Alcune delle principali città che hanno ospitato le sue opere sono Firenze, Torino, Venezia, Londra, Montecario e Labuna Beach in California. Il suo operato si basa, oltre che sulle mostre personali e collettive, anche sulla realizzazione di opere su commissione per clienti privati ed enti pubblici. Alessandra, infatti, è titolare della bottega d'arte Atelier Artemiglia, con sede a Biareggio, dove espone in permanenza le proprie opere, riceve clienti e collezionisti e tiene lezioni di pittura e di segno. Tra i suoi clienti si annoverano anche la Volvo Trust e la Renault Trust Italia, per cui ha realizzato una serie di decorazioni murali presso la sede italiana in provincia di Vercomo.